volete davvero imparare a potare beh credetemi con le indicazioni del mio manuale illustrate passo passo da splendide grafiche e meravigliosi contributi video lo potrete fare in sole 36 ore che siate principianti alle prime armi o abili potatori permettetemi di darvi qualche consiglio per potare al meglio le vostre vigne tutti possono imparare a potare e quando avete imparato ricordatevi di passare parole buon divertimento e toccate le piante e seguite la luna grazie